Radio Più presenta Il gioco dell'amore. Dieci passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. L'innamoramento o la cristallizzazione amorosa. Il periodo di innamoramento è solitamente la fase in cui proiettiamo maggiormente sull'altro i nostri sogni, bisogni, desideri e fisime mentali. Stendhal ha descritto quello che succede nell'amore in un modo stupendo e psicologicamente profondo. Tiriamo fuori qualche tratto essenziale della sua teoria. Per lui, la cristallizzazione è un fenomeno che non cessa quasi mai in amore. Ma cos'è la cristallizzazione amorosa? La via più immediata per spiegarla è la seguente analogia. Scrive Stendhal. Alle miniere di sale di Salisburgo si getta, nelle profondità abbandonate della miniera, un rametto d'albero spoglio a causa dell'inverno. Due o tre mesi dopo lo si ritrae, coperto di cristallizzazioni brillanti. I rami più piccoli, quelli che non sono più grossi della zampina di una gallina, sono guarniti di una infinità di diamanti, mobili e abbaglianti. È impossibile riconoscere il rametto primitivo. Così avviene nel cuore colpito dalle frecce di Cupido. Tutto comincia con l'ammirazione. Questa, poi, attiva la fervida immaginazione. Continua infatti Stendhal. Lasciate lavorare la testa di un amante per 24 ore. E comincia l'opera di cristallizzazione. Si proiettano sulla persona che ha colpito i nostri sensi e la nostra mente tutte le perfezioni possibili e immaginabili. Nella speranza di essere ricambiati nasce la passione amorosa. Questa è la fase della prima cristallizzazione, dove ci si compiace di ornare di mille perfezioni la persona che ci ha rapito il cuore. La mente è così adrenalinica e attiva che trae da tutto ciò che si presenta la scoperta di nuove perfezioni nell'oggetto amato. I dubbi poi sulla realtà dell'amore e sulla persona amata accelerano e lasciano il posto alla seconda cristallizzazione, che produce una certezza, solida come diamanti, riguardo alla bellezza dell'amore ricambiato. Due delle idee fondamentali che vagano nella mente dell'amante giorno e notte e lo rendono invaghito della persona amata sono la persona amata possiede tutte le perfezioni. La persona amata mi ama. Come si nota, l'immaginazione soggettiva supera e quasi trascura la realtà dell'altro. La cristallizzazione è caratterizzata dal solipsismo. L'altro è una specie di pretesto. Roland Barthes la mette così. Io desidero il mio desiderio e l'essere amato non è altro che il suo accessorio. La cristallizzazione non è da demonizzare, è una fase necessaria. L'innamoramento è una grande forza che risveglia la passione e fa superare l'indecisione. D'altronde, come puntualizza Hegel, nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. Si chiede in questo senso Umberto Galimberti, cosa sarebbe il mondo se nessuno ne avesse immaginato uno migliore? Se nessuno fosse stato disposto a sopportare umiliazione e dolore perché accadesse qualcosa di meglio rispetto agli scenari che la prudenza della ragione e il calcolo del sano realismo prefigurano per l'insipida sicurezza di quanti prediligono la garanzia della noia al rischio dell'entusiasmo. Ma, come ben sappiamo, l'amore non è un castello di cristallo bello e pronto. Spesso, dopo la cristallizzazione dell'altro, dobbiamo fare i conti con la realtà, che a volte è più simile a una calza della Befana piena solo di pezzi di carbone. È lì che inizia la prassi dell'amore, l'avventura vera dell'incontro reale, in cui, insieme, ci si adopera al miracolo dell'amore che trasforma il carbone in diamante.